Davide, sul lungo tempo, 2-5 anni, è plausibile affermare che il franco continuerà a salire rispetto all'euro? Troppo difficile da ipotizzare? Ma secondo me è abbastanza probabile questo, diciamo che se andiamo a prendere un grafico proprio di lungo periodo, questi sono gli ultimi 20 anni, vediamo che tra alti e bassi ma dal 2008 il franco svizzero si è sempre apprezzato. Quindi queste sono tendenze che sono veramente difficili da invertire, quindi vedendo un pochettino come va l'Europa, vedendo appunto l'istabilità che arriva sempre più vicina all'Europa dal punto di vista geopolitico, io sono abbastanza convinto che il franco svizzero sia una valuta che continuerà a darci soddisfazioni.